E ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, vediamo un po' se si sente bene Dovrebbe essere ad un livello accettabile il suono Con l'audio ho sempre problemi, comunque torniamo a parlare un po' di tatuaggi finalmente E vorrei parlare di tre luoghi comuni sul tatuaggio da sfatare Il primo luogo comune che mi sono scritto è Lo faccio dietro così non mi stufo E' corretto, ognuno deve scegliere il tatuaggio nella zona più adatta E in base al tipo di tatuaggio magari se non è un tatuaggio che si vuole costantemente sotto gli occhi Perché magari potrebbe essere semplicemente non adatto in alcune situazioni Quindi è bene averlo in posizioni un po' più nascoste diciamo Potrebbe essere ok se è un tatuaggio un po' più folle Nel senso che magari stai facendo un tatuaggio con degli amici E deve essere soltanto un ricordo Quindi va benissimo farlo in zone un po' più nascoste rispetto a magari farlo su una zona come l'avambraccio Come il braccio che è una zona molto evidente e molto bella Quindi meglio impiegarla per fare dei tatuaggi più grandi Non perché si deve nascondere il tatuaggio Semplicemente appunto perché magari non è il caso di farlo lì Però oltre a queste motivazioni tante persone lo fanno in posti diciamo nascosti Anche se invece è un tatuaggio diciamo artistico diciamo molto sentito dalla persona Semplicemente lo fanno magari sulla schiena o in zone molto lontane dalla vista Proprio per un discorso che hanno paura che si stufano del design E quello è un problema perché si parte da dei preconcetti secondo me un po' sbagliati Cioè vuol dire che quello che stai facendo Prima cosa non sei certo forse di come viene Quindi hai paura che venga male il tatuaggio e lo fai di nascosto non lo so Oppure hai paura dei tuoi stessi gusti personali Quindi hai paura che la scelta fatta oggi Fra tanto tempo non ti possa più piacere Però è qualcosa che se fatto in maniera artistico Se fatto in maniera sensata da professionisti E non intendo professionisti cioè persone che lavorano da dieci anni Intendo persone che lo fanno con l'intento di fare appunto qualcosa di artistico Quindi il tatuaggio se visto come la pittura come la scultura Non è che dopo dieci anni quella scultura la faresti diversa Semplicemente ne faresti un'altra Però quella scultura in quel momento che rappresenta quel gesto Va benissimo ora e va benissimo fra mille anni Quindi sta a te scegliere appunto un tatuatore e un tatuaggio Che anche fra mille anni O comunque sia quando sarai adulto, vecchio Sia un qualcosa che non ti dia fastidio Ma che si rappresenta il momento e quegli anni in cui l'hai fatto Ma rappresenta anche il presente Perché appunto è qualcosa di artistico Che non hai vergogna a portare avanti Quindi tutto questo pippone per dire che Se scegli un tatuaggio molto collegato alla moda È molto facile che poi ti stufi Se adesso ti tatui qualcosa che in realtà non è molto sentito Ma è semplicemente un'immagine che hai visto su Instagram migliaia di volte E adesso ti piace perché l'hai vista tantissime volte Se non è un'immagine collegata ad un significato che a te è molto vicino È molto facile che ti stufi Quindi sia che lo fai in un posto visibile o invisibile Ti stuferà Mentre se scegli appunto un'immagine che può essere anche molto comune Ma che rappresenta per te qualcosa di forte Qualcosa di per te importante O semplicemente per te interessante Per quanto riguarda quello che puoi esprimere sulla tua pelle Ripeto è qualcosa di molto filosofico Però è così nel senso È come se noi siamo delle pareti Sulle quali appendere dei quadri E sta a noi scegliere i giusti quadri E mi rendo conto che non è facile Perché comunque sia un quadro Puoi staccarlo e venderlo, spostarlo Mentre il nostro corpo è questo Lo spazio è limitato Alcune zone sono migliori di altre Alcune zone sono più esposte di altre Quindi appunto è normale che ci sia così tanta Tra virgolette ignoranza Sulla scelta delle zone, dei soggetti, dei tatuaggi, degli stili Perché è molto complesso Secondo me il mondo del tatuaggio Nei prossimi anni E per sempre subirà delle evoluzioni molto massicce Perché comunque sia Continueranno per sempre ad esserci tatuaggi Di basso livello Ci saranno sempre Però secondo me aumenteranno Esponenzialmente I tatuaggi di altissimo livello Posizionati per bene E portati con grande stile Perché comunque sia appunto sono Scelte che poi ti ritrovi persone di 60 anni Che hanno addosso pezzi di tatuatori storici O tatuatori famosi O tatuatori che magari non conosci Ma che magari in quel paese Sono bravi e conosciuti E quindi lo apprezzi E secondo me si avvicinerà sempre di più Al mondo della pittura Al mondo del tatuaggio Sia per quanto riguarda le correnti artistiche Sia per quanto riguarda L'evoluzione proprio del mercato Quindi Non lo so Magari sarebbe figo farci un video a riguardo Però Tendenzialmente Nascondere un tatuaggio Perché si ha paura Di pentirsi della scelta O di vederlo tutti i giorni davanti agli occhi Che potrebbe stufarvi Insomma è un qualcosa che Vi deve far pensare quindi Che probabilmente la scelta che state facendo Sul soggetto che state scegliendo E sul tatuatore Probabilmente Non lo so Non è quella giusta Non è una scelta giusta Probabilmente non dovete farlo col tatuaggio Perché Bisogna essere un po' più sicuri Di quello che si sta facendo Poi ovviamente massima libertà Nessuno vi dice No non devi nascondertelo È sacrilegio No nel senso Puoi farlo dove vuoi Però appunto Partire con questo preconcetto Spesso Comporta altri preconcetti Sbagliati Quindi probabilmente Nel ragionamento Che si sta facendo Su quel design Ci sono diversi errori Che vanno un attimo rivalutati Quindi vi invito un attimo A ragionarci meglio Adesso passiamo invece Alla seconda frase Al secondo luogo comune Che è molto molto Sentito Non tantissimo Non tutti pensano questa cosa Però in tanti Quindi Vorrei parlarvene E riguarda la frase Che mi sono scritto qui Che Nero è troppo pesante E facciamolo colorato Così è più delicato Perché viene più delicato Usiamo un colore Diverso dal nero In modo che Sarà sicuramente Più chiaro Il tatuaggio Sarà sicuramente Meno pesante Questa frase Può essere vera In determinate situazioni Però a parità di stile Quindi immaginiamo per esempio Un soggetto Come una rosa Fatta Non troppo grande Abbastanza piccolina Colorata E una rosa Di quella stessa dimensione Di quello stesso stile Fatta però Bianco e nero E parlo per esempio Di uno stile Molto vicino al realistico Quindi un qualcosa È molto realistico Il risultato finale Risulta molto più delicato In bianco e nero Per risultare più delicato A colori A livello tecnico Del tatuatore Deve essere altissimo Quindi soltanto Se ci troviamo davanti Ad una persona Che è specializzata A fare Per esempio Micro realistici A colori Puliti Eleganti Delicati Allora in quel caso Ovviamente è vero Che colorato Sarebbe meno invasivo Meno pesante Meno evidente Su pelle Rispetto al bianco e nero Ma in tutti gli altri casi È vero il contrario Quindi è vero Che il tatuaggio Fatto con l'inchiostro Più scuro di tutti Quindi il nero Risulterebbe più delicato Io per esempio Faccio Uno stile O una mano O un modo di tatuare Che I soggetti che scelgo Fatti in bianco e nero Fino ad oggi Magari in futuro Cambierà la cosa Però Per il momento Io amo lavorare In bianco e nero Perché il soggetto Che riesco a fare Lo rendo Se voglio Iper delicato Con il nero Se utilizzassi il colore L'effetto su pelle Da guarito E per sempre Sarebbe più pesante Sarebbe più Evidente E più vistoso Rispetto a che si è fatto A colore Se io utilizzassi i colori Sarebbe una cosa Più pesante E quindi Ovviamente Capite bene Che è una cosa Molto soggettiva E che è molto Dipendente Dal tatuatore Dal soggetto scelto E da varie cose Però ecco Diciamo Avere il preconcetto In testa Che il tatuaggio Fatto con il nero È sempre pesante È sempre Il più pesante Preferisco farli Colorati Perché sono più Delicati Sono meno evidenti Non è vero Perché ecco Per esempio Quello che ho sulla mano La parte rossa È molto evidente Se fosse stato Solo bianco e nero Sarebbe stato Meno vistoso Quindi non abbiate paura Di fare un tatuaggio Fatto tutto con il nero L'importante è che appunto Controlliate Che il tatuatore Che state scegliendo Sia vicino Allo stile che volete O fa precisamente Lo stile Del soggetto Che volete Quindi in quel caso Siete tranquilli Che il risultato Anche se fatto con il nero Non sarà un qualcosa Di pesante Ma sarà qualcosa Di delicato Se lo volete Ma ovviamente Alcuni stili Invece vogliono essere Molto presenti su pelle Sia colori Sia in bianco e nero Quindi in quel caso Questo discorso Non vale Semplicemente Io personalmente Mi sento spesso O in passato O per chi altro Mi sono sentito spesso Dire questa frase Quindi volevo Metterla qui In questa compilation Di luoghi comuni Ora invece Arriviamo al terzo Loco comune Riguardo il tatuaggio Ed è un po' Complesso da spiegare Perché è la seconda volta Che ci riprovo E non è così semplice Però di base Riguarda il tatuaggio E il posto di lavoro Cioè Che tante persone Vanno a nascondere I tatuaggi In maniera estrema Per la paura Di non trovare Lavoro Il fatto di voler Fare il tatuaggio In zone non evidenti È condivisibile È condivisibile E io lo consiglio Quando si hanno Per esempio 20 anni Non si sa di preciso Qual è il lavoro Che vogliamo fare Però Fra questi lavori Magari potrebbero starci Anche la ricerca di lavoro All'interno dell'ambito medico O anche per esempio Con corsi riguardo Le forze dell'ordine Pubblica amministrazione Ma soprattutto Le forze dell'ordine Diciamo Per essere tranquilli Che in quei campi Così restrittivi Non ci siano problemi L'importante è Rimanere all'interno Delle maniche corte E dei calzoncini corti Quindi Potete fare tranquillamente 40 tatuaggi Anche grandi Senza che nessuno Se ne accorga E potete entrare In polizia Quindi Non dovete Limitarvi troppo Potete Ovviamente informatevi Informatevi bene Però Potete tranquillamente Fare le zone Alte della coscia Il fianco La parte del torace Del petto Della schiena Quindi potete fare Tantissimi tatuaggi Senza che vadano A sporgere fuori Dalle magliette Quindi comunque sia Vi conviene Tenervi Ovviamente all'interno Però appunto C'è tantissimo spazio Per fare dei tatuaggi Anche molto grandi Se volete Ma potete tranquillamente Farli più piccolini Più tranquilli E poi stabilizzarvi Al lavoro Non c'è nessun lavoro Che ti dice Tu non puoi fare Nessun tatuaggio In nessun punto Del corpo Quindi partendo Da questo Tre concetto Piuttosto di scegliere Zone Sotto al piede O sulla chiappa È meglio Scegliere zone Più normali Senza avere Troppe paranoie L'importante È che appunto Sia una zona Non visibile Se tu fai un tatuaggio Sul fianco Nessun lavoro Ti precluderà L'ingresso Perché a parte che A meno che tu Non voglia mostrarlo O dirlo Nessuno Lo vedrà mai E poi Appunto In nessun lavoro Quel tatuaggio Può dare fastidio Al cliente stesso O comunque sia Può Precludervi L'ingresso All'interno Di concorsi Pubblici Quindi È bene Informarsi In maniera Specifica Leggere Nero sul bianco Fino a dove Potete tatuarvi Perché vedrete Che le zone Che potete tatuarvi Sono molto Di più Di quelle che pensate E poi Per tutti gli altri Lavori Che non siano Pubblica amministrazione O Soprattutto Forza dell'ordine Esercito E quant'altro Lì Siete molto tranquilli Perché il tatuaggio È molto tollerato Diciamo ormai ci sono notai Avvocati Dentisti Con tatuaggi Tranquillamente Fino alla parte Dell'avambraccio Molto bassa Polsi anche Ma anche un po' di più Però non vi consiglio Di andare su Mani Collo E quant'altro Vi consiglio di rimanere All'interno Abbondante Della camicia lunga Per dirci Però ovviamente È molto più tollerato In realtà La tolleranza Sul tatuaggio Si è evoluta Così tanto Che non è tanto Discriminatorio Il tatuaggio In sé Sull'avambraccio Per esempio È una zona Non visibile Come le mani Ma neanche nascosta Come all'interno Della manica corta Dicevo Non è discriminatorio Tanto il fatto Che abbia Un tatuaggio Sull'avambraccio Su zone Semi visibili Ma è discriminatorio Per esempio Il tatuaggio Proprio Lo stile La tecnica Quel tatuaggio Che hai Magari potrebbe Pregiudicarti L'ingresso al lavoro È molto intelligente Pensare Alla scelta Del soggetto Anche per queste cose Perché appunto Potete tranquillamente Fare lavori Di nicchia Chiamiamoli così E avere tatuaggi Anche Sull'avambraccio Senza che nessuno Vi dica nulla Quindi Molto tranquillo In realtà È pieno di medici E dentisti Con tatuaggi Di merda Anche fino al polso Quindi Sono io Che sto Molto esagerando Quindi Informatevi bene Diciamo Sul lavoro Che potrebbe Interessarvi Quali sono Le restrizioni In modo Che non Abbiate Nessun problema In futuro Se siete Molto indecisi E molto giovani Vi consiglio Di aspettare A fare il tatuaggio O Di farlo Appunto In zone All'interno Delle maniche corte E calzoncini corti Ed eccoci Questi tre luoghi comuni Tra virgolette Sfatati Che Ho voluto trattare Oggi Fatemi sapere Se questi video Possono Piacervi E Cosa ne pensate Parliamone insomma Qui sotto Se viva Mi farebbe piacere Se Magari scriveste Anche Delle idee Riguardo Futuri video Da poter realizzare Magari temi Da trattare Oppure Altri miti Che magari avete sentito Riguardo al tatuaggio E volete sentire Più o meno Una mia idea A riguardo Non lo so Qualsiasi cosa Scrivete nei commenti Che sono qui Noi ci vediamo In un prossimo video Fate buona giornata Ciao Ciao Grazie.